Dietro a me vedete questo green screen, tutto verde perché dopo con questo tu dietro ci puoi mettere quello che ti pare ci puoi mettere, che so, Casar Bertone, Pigneto, Dottor Bellamonaca, Avezzano puoi fare qualsiasi cosa, purché sia nel Lazio, eh! Oh, da fuori Lazio che non te lo prendi!